non parlo non parlo perché mi sono messi ridicolo ridicolo in senso che non faccio un video da un anno e mezzo tipo e sono ritornato adesso tu muori prima cosa e mannaccia comunque ragazzi dopo tipo un anno e mezzo su burrito bison che non ho mai portato infatti è un nuovo gioco sono usciti molti giochi nuovi da quando non cominciamo a fare più video comunque ragazzi a quanto pare proprio oggi è capitata una cosa bruttissima che non volevo che capitasse il fatto che non riesco più ad entrare sul mio account principale di brawl stars e questo mi fa arrabbiare infatti forse porterò più contenuti di burrito bison si vi piace perciò vi chiedo solo di raggiungere i bellissimi 10 like no scherzo troppi 5 5 like 5 like faccio tutto quello che ho voluto però me li dovete fare allora un attimo ecco sbagliato odio quando succede sto coniglio da fastidio ma non c'è la miseria un bel pugnietto al coniglietto e si può andare no devo recuperare la piaccia a quanto pare ragazzi quanto sei molto sfizioso come gioco ok penso che ci vediamo quando farò un lancio abbastanza buono non c'è la miseria non c'è la miseria Grazie a tutti.